Ci rallegriamo sui dati positivi del Mazzini, a Giulianova la situazione è assolutamente sotto controllo, noi non abbiamo mai avuto fortunatamente problemi presso il nostro ospedale. Lunedì andremo a inaugurare la RSA di Bivo Bellocchio, che sarà la nostra struttura Covid dedicata per la città di Giulianova, dove eviteremo di sporcare il nostro comio e andranno lì a convogliare 22 pazienti Covid positivi in fase di guarigione. La situazione è sotto controllo, noi abbiamo numeri veramente esigui rispetto agli abitanti, al momento registriamo 20 casi totali di Covid positivi, di cui purtroppo 3 deceduti e 3 guariti, e quindi abbiamo 14 casi attivi al momento, numeri che sono veramente importanti, numeri che ci fanno capire che il lavoro che abbiamo svolto di contenimenti in questi 55 giorni è stato un lavoro ottimo. Sindaco, lo leggiamo anche dal titolo, lei ha emanato una ordinanza che consente di fare delle passeggiate un po' più lontano da casa, un paio di centinaia di metri in più rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, 400 metri, questo probabilmente per iniziare a prepararsi anche in maniera psicologica la cosiddetta fase 2, a quando bisognerà in qualche modo ritornare alla normalità o pseudo tale. Esattamente questo, c'è anche da curare un aspetto psicologico che non è da sottovalutare, noi siamo stati i primi ad attivare dei numeri telefonici con degli professionisti a disposizione, e quindi non voglio assolutamente che nel giorno in cui, verosimilmente il 4 di maggio, ci sarai rompete le righe, di ritrovarmi una città invasa di persone con l'ansia e la smania di uscire e andarsi a fare una passeggiata o andare al mercato o andare a fare la spesa a piedi. Quindi noi faremo un percorso diverso, naturalmente sempre nel rispetto del DPCM, tenteremo con le ordinanze di aprire in maniera graduale già dalla settimana prossima, ho previsto la riapertura del mercato alimentare, di piazza della chiesa, permetterò in maniera sempre graduale di allontanarsi sempre di più dalle proprie abitazioni, questo appunto uno perché andiamo ad alleviare, visto che siamo stati bravi fino ad oggi, quella che è la morsa e la stretta anche psicologica sui nostri cittadini, due, tenteremo di non avere nella giornata, io spero a questo punto del 4 di maggio, tanti cittadini che non escono da mesi e mesi e non vedono l'ora di mettersi a fare camminate e di mettersi a fare corse, di mettersi insomma in giro per la città, lo prevederemo prima con degli step graduali, ripeto già posso darvi per certo che stamattina abbiamo capito come far svolgere in sicurezza il mercato delle erbe che ci sarà giovedì prossimo in piazza della chiesa, ma sto pensando per esempio ad altre ordinanze che vadano appunto a stringere questa situazione di difficoltà che viviamo ormai da due mesi. Ecco, a proposito di fase 2, un piccolo segnale, anche oggi siete tornati a riunirvi nel Consiglio Comunale vis-à-vis, non diciamo via telematica, è così? Beh, devo ammettere che gli amministratori devono dare l'esempio, noi abbiamo dato l'esempio, io sono stato tra i sindaci che ha firmato le ordinanze molto stringenti, inizia la fase 2, una fase in cui dobbiamo far capire ai nostri cittadini che dovremmo convivere con questo virus, dovremmo avere degli accorgimenti, dovremmo avere un distanziamento sociale e non a caso abbiamo voluto dare l'esempio per la prima volta, dopo che abbiamo fatto non so quante giunte da remoto, abbiamo fatto una giunta fisica con la presenza anche dei dirigenti, con la presenza del comandante dei vigili urbani all'interno dell'aula consigliare con un distanziamento di oltre 3 metri tra i presenti e lo abbiamo fatto anche per dare un segnale alla cittadinanza. Noi non ci arrendiamo, noi non ci fermiamo, abbiamo sempre ben attenti quello che è il problema sanitario, ma non ci fermiamo, la nostra città vive per il 60% dall'indotto turistico e non ci possiamo permettere di buttare all'aria questa stagione, non ci possiamo permettere di far morire i nostri commercianti, non ci possiamo permettere di far finire la nostra economia. Quindi noi siamo pronti, non ci siamo fermati mai, adesso è arrivato il momento per i prossimi mesi di convivere con questo nemico invisibile che è il Covid-19 e tentare in ogni maniera di arginare i numeri facendo una vita sociale diversa rispetto a quello che eravamo abituati a fare. A proposito di ripartenza, restiamo sempre su questo tema che poi è d'attualità in questi giorni, in queste ore. Sarà necessario anche un coordinamento, io parlo della provincia ma ovviamente anche più largo, tra voi sindaci, tra tutte le istituzioni affinché anche le varie ordinanze ci sia un'armonia che consenta di controllare meglio il territorio, credo. Allora, il discorso è questo, noi abbiamo provato più di una volta ad avere un'unità di intenti, abbiamo una chat dove ci sono tutti i sindaci, abbiamo provato sin dalle prime fasi, però comprendete bene che ogni sindaco ha un modo di operare diverso, ci sono sindaci più attendisti, ci sono sindaci più decisionisti e in più le esigenze dei territori sono diverse. Cioè, il comune di Isola del Gran Sasso ha delle esigenze diverse rispetto al comune di Giulianova. Ci sono alcune piccolissime realtà, mi viene in mente il comune di Canzano per esempio, dove il mercato delle erbe o il comune di Bellanto dove il mercato delle erbe non si è fermato perché prevedeva solamente due banchi ed era più sicuro recarsi al mercato delle erbe all'aperto che andare al supermercato. Quindi le esigenze sono diverse, cercare di adattare il DPCM a delle realtà come quelle di Giulianova, Teramo e Roseto è diverso, e anche Silvi, è diverso se adattare il DPCM a delle realtà più piccole che hanno una possibilità di controllo territoriale, una possibilità di svolgimento della vita di tutti i giorni dei cittadini, diverso rispetto a quello che noi purtroppo abbiamo in città che non sono grandissime ma non sono neanche piccole. Avete svolto anche il comitato ristretto dei sindaci? Noi col comitato ristretto dei sindaci non ci siamo più riuniti, ci siamo sentiti da remoto, non abbiamo ufficializzato il fatto verbali, ma io sono perennemente in contatto sia col sindaco D'Alberto, sia con il direttore generale della ASL, sia con la task force che in questo momento sta affiancando nelle decisioni più delicate il direttore generale. Quindi siamo perennemente in contatto, ci sentiamo anche diverse volte al giorno, molte volte non la pensiamo della stessa maniera e questo non significa che però non riusciamo a portare dei risultati. Io ed Alberto siamo stati molte volte d'accordo su alcune gestioni sanitarie, alcune volte no. Però quello che vi posso dire è che soprattutto nella comunicazione da parte della ASL e in alcune decisioni vedete l'apertura del Bivio Bellocchio, l'RSA del Bivio Bellocchio, devo ammettere che l'azienda sanitaria locale ha svolto un lavoro veramente importante, Greggio, e anche la task force che è stata nominata ha dato un contributo vincente in alcune decisioni. Ultima domanda che le faccio prima di salutarci. In provincia di Chieti ci sono tanti sindaci, ieri abbiamo ascoltato quello di Francavilla Luciani, che si lamentano delle comunicazioni dell'ASL che arrivano in ritardo con il contagocce molto spesso a tempo scaduto, purtroppo quando ormai ci sono anche dei decessi. In provincia di Teramo qual è la situazione? In passato ci sono state delle polemiche, adesso come funziona la comunicazione tra ASL e comuni? Allora, dobbiamo essere sinceri, la comunicazione è migliorata di tanto, non è perfetta, questo bisogna ammetterlo, però è migliorata. Quello che io posso dirvi è che dobbiamo spingere in ogni maniera, io l'ho fatto senza mezze misure, come purtroppo nel mio modo di fare, per avere più tamponi. Mille tamponi al mese licenziati dai nostri due laboratori operativi sul territorio sono poca cosa rispetto a altre regioni che hanno, è vero, una popolazione maggiore ma che licenziano, vedete il Veneto, 20 mila tamponi al giorno. In questo momento passa troppo tempo dal momento in cui il paziente richiede il tampone, al momento in cui gli viene fatto, al momento in cui il tampone viene licenziato, può passare anche una settimana e questo non deve accadere perché in quella settimana noi contagiamo, rischiamo che quella persona vada a contagiare i familiari, vada a contagiare andando a fare la spesa. Quindi è essenziale, soprattutto per quelle categorie di lavoratori che dovranno rientrare al lavoro, fare un tampone, come sta accadendo in Israele, come sta accadendo in Germania, dove si alza il telefono 24 ore, fanno il tampone e sanno se sono positivi o negativi, naturalmente se sono negativi si possono rimettere nel mercato del lavoro. Questo perché? Perché ci sono anche molti asintomatici e quindi l'unico modo per saperlo e aumentare a dismisura il numero dei tamponi. Ho visto che Israele, per esempio, sta facendo i tamponi in strada, ha messo del tipo rulotto in strada, uno si avvicina, gli fanno il tampone e dopo 24 ore gli comunicano telefonicamente se è positivo o negativo, rilasciandogli una sorta di patente per circolare in maniera serena e tranquilla e tracciandogli spostamenti. Noi siamo stati il primo paese ad essere contagiato, però in questo momento mettiamo sul campo poche idee. Qui dobbiamo, secondo me, prendere spunto da chi invece sta gestendo meglio questa situazione.